Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente dell'Associazione Valore Uomo, l'Avvocato Napoletano Giuseppe Mazzucchiello, che gli ha consegnato il Premio Valore 2019. La motivazione è sicuramente per il grande lavoro, per la posizione di garanzia che il Presidente svolge al servizio del Paese, provando a mediare tra l'esigenza di portare avanti quelli che sono tutti i compiti che competono al Presidente del Consiglio con quella di garantire però la posizione del cittadino rispetto alle istituzioni. L'Associazione è nata 21 anni fa, ha voluto dedicare la manifestazione al genio di Leonardo da Vinci e al contributo che indiscutibilmente ha dato alla scienza, al progresso e alla libertà. Hanno ricevuto il riconoscimento Patrizia Barbalucca, responsabile Casa Famiglia alla Valle dei Fiori, Maurizio Billi, direttore della banda musicale della Polizia di Stato, Toni Capozzo, giornalista, Cristian Cipriani, direttore dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Paolo Sasso, chirurgo, Luigi Contu, direttore dell'ANSA e il prefetto Bruno Frattasi, direttore dell'ANBSC, l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. Essere qui premiato da questa importante associazione con un premio che ha questa importante denominazione è un fatto che mi emoziona, mi dusinga perché mi fa pensare che ci sia stata attenzione verso il lavoro che ho svolto e mi rende molto felice, ecco, questo veramente posso dirlo. Gli altri premiati, Franca Giansoldati, vaticanista e coordinatrice The Mind Gap, Carmela Elita Schillaci, ordinario di economia e gestione delle imprese, Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club Italia, Anna Maria Timperio, docente di biologia molecolare presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Carla Prospero Zenato, imprenditrice. Tra i premiati e lo scorso anno e da sempre vicini all'associazione, il direttore sanitario dell'ospedale Bambin Gesù, Massimiliano Raponi. Dall'anno scorso per me rappresenta un momento importante, una giornata importante perché ci permette di raccoglierci e di rappresentare a tutti quanti noi i valori che ci spingono a fare le cose giuste, nel caso mio, per i pazienti che afferiscono all'ospedale Bambin Gesù.